Sono i fuochi dell'anno scorso. Allora, ci siamo? Possiamo iniziare? Allora, grazie a tutti. Allora, grazie a tutti e benvenuti a Contrada Difese, oggi 10 novembre 2019, festa di San Trifone, come ogni anno, il Festival dell'Arte Pirotecnica di Trani. Ringrazia il Comitato Feste Patronali, organizzatore della Regina delle Feste Patronali d'Italia, ovvero la festa di San Trifone, quella ad Elfia. E ci dà la possibilità, come ogni anno, di mettere in mostra il nostro evento pirotecnico, che in questi anni sta riscuotendo grandissimo successo e grande rilevanza mediatica a livello nazionale e a livello internazionale. Anche quest'anno, anche se la location è un po' diversa, siamo in Contrada Difese appunto di fronte al Campo Fuochi. Quindi invito tutti coloro i quali magari in questi anni hanno avuto la possibilità di venire a trovare con lo stand in Piazza Umberto, di passare qui a trovarci per il calendario che abbiamo già pubblicato ed è già in vendita, in distribuzione. Il calendario 2020, che ritrae ovviamente gli scatti bellissimi del Festival dell'Arte Pirotecnica Trani 2019, che si è conclusa, a cui vorrei fare un applauso a tutti i partecipanti della scorsa edizione, perché, lo ripeto sempre, noi abbiamo una grande macchina organizzativa, però chi fa grande il Festival dell'Arte Pirotecnica di Trani sono i nostri maestri, che scegliamo ogni anno e che con sacrificio ed edizione partecipano a ogni edizione, dimostrando sempre la loro maggior valenza nel settore pirotecnico a livello nazionale e internazionale. Molti di voi quest'anno avranno già iniziato a guardare un po' sui social i nostri post con questa dicitura particolare, solo produttori. Il Festival dell'Arte Pirotecnica Trani, per la sua quinta edizione, quindi una ricorrenza, diciamo, anche seppur giovane e piccola, per la nostra manifestazione, ha voluto cambiare, ha voluto dare un'impronta, un imprinting diverso a quelli che saranno gli spettacoli per il 2020, ovvero spettacoli realizzati da soli produttori. Questo ovviamente senza nulla togliere a chi in questi anni ha partecipato a Trani, come la Rosa International Fireworks, da cui voglio fare un applauso per i grandi spettacoli che hanno realizzato a Trani, che magari comprano e allestiscono spettacoli grandiosi. Però quest'anno abbiamo chiesto qualcosa di particolare, qualcosina in più, quella qualità in più, quel quid in più, che andrà a contraddistinguere la piazza di Trani da tutte le altre, ovvero spettacoli unici, materiale unico, impostato in maniera unica ed esclusivamente per Trani. Quindi di Trani ci sarà un unicum in Italia, non ci saranno tanti spettacoli o spettacoli simili. Vedremo qualcosa di unico, realizzato ad hoc per Trani. Per questa occasione abbiamo fatto una ricerca con il nostro bel lanternino, per cercare quelle che sono le migliori mani che producono il materiale pirotecnico in Italia, e cercando di prendere sempre le nostre scuole pirotecniche con le loro peculiarità, ovvero quella pugliese, quella campana e quella siciliana. Le date del prossimo festival sono dal 18 al 22 giugno, quindi sempre il format di 5 giorni, perché ricordo che Trani ha un format costituito da fuochi d'artificio, ruota padronamica ed aria food. In più ci sono tante altre attrattive che sul porto di Trani sviluppano una fluenza di 100.000 persone che quest'anno ci ha dato la possibilità di finire anche la ribalta dei digi nazionali, di cui sinceramente con tutto il lavoro che facciamo e con tutto il lavoro che i nostri maestri pirotecnici fanno, credo che sia un piccolo giusto riconoscimento per dare dignità a quest'arte pirotecnica vera, perché quella è la missione del Festival dell'Arte Pirotecnica, è valorizzare l'arte pirotecnica. Quest'anno abbiamo incrementato il numero degli spettacoli, quindi parliamo di 7 spettacoli, anziché 6, di cui 5 in gara e 2 fuori, ovvero abbiamo il Final Show e lo Special Show, a cui abbiamo assistito per la prima volta l'anno scorso, il Final Show è a cura della ditta del maestro pirotecnico che ha vinto l'edizione precedente e che torna l'anno successivo con il premio e con la possibilità di realizzare lo spettacolo sul molo da solo, un grandioso spettacolo finale di chiusura del Festival. Lo Special Show è il fuoco diurno, aiuto l'acqua, siamo fortunati, è il fuoco diurno invece che l'anno scorso abbiamo inserito per la prima volta a Trani e che ha avuto un grandissimo successo, un riscontro di pubblico, gradimento altissimo, anche per Trani che non aveva mai assistito a uno spettacolo pirotecnico diurno, vero. Allora, niente, quindi stavo dicendo il discorso solo produttori, solo produttori perché? Perché solo i produttori sono in grado di poter studiare degli spettacoli ad hoc, sono in grado di poter rivoluzionare quello che siamo stati sempre abituati ad oggi a vedere, quindi inventarsi delle nuove aperture, delle nuove chiusure, dei nuovi stucchi, dei nuovi sfondi, impostare il materiale in maniera nuova, vedremo sul modo di Trani il materiale spolettato. Siamo abituati all'altissima tecnologia, ma l'andremo a coniugare anche con la tradizione, ovvero con l'arte pirotecnica, quindi vedremo del materiale spolettato, con le tempistiche, con tutto quello che sono le peculiarità dell'arte pirotecnica di Trani. E niente, quindi io direi di poter cominciare con la presentazione dei nostri grandi pirotecnici che partecipano all'edizione 2020, apriremo il festival il giovedì, l'anno scorso abbiamo fatto una dimostrazione di sfere calibro 400, quest'anno invece avremo uno spettacolo vero e proprio, il primo grande spettacolo del festival e sarà realizzato dal Luigi Di Matteo Fireworks Event, a cui voglio fare un applauso, realizzato appunto da Luigi Antimo e Gennaro Di Matteo, che qui non sono presenti perché Luigi non è stato bene, quindi non è potuto intervenire alla presentazione, a cui rivolgiamo un grande coloroso saluto, torna per il terzo anno a Trani e come da Blasone Di Matteo dovrebbe rappresentare una garanzia nella produzione del materiale. Ah, ho dimenticato una cosa importantissima, la dirò alla fine, che magari è la chicca. Quindi praticamente giovedì 18 apre il festival dell'arte pirotecnica Luigi Di Matteo Fireworks Events. Passiamo al venerdì. Il venerdì avremo due spettacoli con due new entry. Una campana che voglio subito presentare, purtroppo si è un po' svelata con una fotografia sui social che ha riscosso veramente grandissimo successo e che mi rusinga veramente per la scelta, perché sicuramente ci farà vedere tantissimo materiale nuovo, innovativo, perché tra virgolette lo definisco un sognatore dell'arte pirotecnica. Sto parlando di Carmine Ruocco, che invito qui a venire, qui a strada, qui a presentazione. Grazie Carmine, ci farà un immenso piacere avere lui come produttore del festival dell'arte pirotecnica, ripeto, solo produttori. E Carmine credo che sia un emblema di questo target, perché come siamo stati abituati a vedere in questi anni credo che la sua arte sia ineguagliabile a dell'inventivo, lo chiamo appunto un po' il poeta, il sognatore dell'arte pirotecnica, perché ci realizza quelle cose inaspettate, che non ti aspetti. E quindi secondo me per Trani, lui, per Trani 2020, sposa a pieno quello che saranno i nostri canoni. Carmine, che ci vuole di qualcosa per Trani? Niente, essere stato un che cede, essere stato invitato per Trani. Grazie. Quindi impegnerò il più possibile. Quindi sicuramente Carmine non deluderà le aspettative di tutti i colori tuoi ci hanno già scritto, soprattutto olandesi e tedeschi, che hanno scritto, wow Rocco, it's big Rocco. Quindi sicuramente Carmine darà dimostrazione di poter presenziare sulla piazza pirotecnica di Trani, su un mono di 150 metri, realizzando il suo materiale. Quello che sa fare, perché noi chiediamo ai pirotecnici, ai soli produttori, di portare quello che loro sanno fare, la loro specialità, non vedremo più spettacoli uguali, ma saremo in grado di riconoscere, a prescindere dalla scaletta, chi sta sparando, perché la missione del Festival 2020 è questa, ridare identità alla pirotecnica, ognuno con la sua mano, ognuno con la sua peculiarità. Bello rosso, bello giallo, vedremo questo, vedremo la mano di ognuno. Ti ringrazio Carmine, grazie per essere qui a noi. Bene, quindi poi questa è la prima novità. Passiamo al secondo spettacolo del venerdì, che riguarda la scuola pirotecnica siciliana. Qui avremo un'altra novità, un po' una staffetta, no? Molti mi diranno, ah, forse era la stessa cosa, no. Siamo usciti addirittura anche in Fabra, anche in Sicilia, giù a Bagheria, per visionare la fabbrica, e parlo di Maurizio e Giuseppe La Rosa, quindi Pirolandia, Fairo. Quindi avremo un bel duetto, composto il venerdì da tradizione contro spettacolo. Ne vedremo delle belle, perché vedremo del materiale lavorato esclusivamente da Maurizio e Giuseppe La Rosa, allestito con uno spettacolo che siamo abituati, come conosciamo, no, con tantissime sequenze, giochi di monoggetti e quant'altro, che è la loro particolarità. Quindi anche un'altra ditta importante al Festival dell'Arte Pirotecnica, che darà appunto, secondo me, un grandissimo valore questa sfida, è un'apertura, assieme a quella di Luigi, già grandiosa. E sicuramente ne vedremo delle belle. Quindi la scuola pirotecnica siciliana quest'anno è rappresentata da Maurizio e Giuseppe La Rosa, quindi Pirolandia Firehawks, a cui faccio un applauso e un saluto. Adesso passiamo al sabato. L'anno scorso, il sabato, abbiamo avuto qualche problemino, siamo rimasti orfani di uno spettacolo. Quest'anno sicuramente, sono cose che capitano, sicuramente quest'anno non avremo di questi problemi, abbiamo altre due grandissime aziende, sempre produttori, sempre esclusivamente produttori, perché chiediamo qualcosa che sia veramente fatto dalla A alla Z dai nostri maestri dell'Arte Pirotecnica. E voglio cominciare con ormai, diciamo, dei padroni di casa, diciamo così. Saranno la loro quarta edizione al Festival, l'anno scorso si sono cimentati con un grandissimo spettacolo diurno che ha lasciato tutti a bocca aperta e ha stupito la piazza di Trani, sono stati capaci di far innamorare il pubblico di Trani degli spettacoli diurni, con lo special show Sogno a Colori, invece quest'anno tornano di sera in gara, si vogliono rimettere in gara per dare dimostrazione del loro valore, della loro arte. E sto parlando della senatore Fireworks, la clave per l'edito Vincenzo, Carmi, andate tutti quanti, loro ci sono tutti, sono qua presenti ad Adelfia, stanno lavorando da due giorni, con loro ormai, come con tutti gli amici del Festival, si è creato questo bellissimo rapporto e guai a non chiamarli al Festival, ci tengono tantissimo come ci teniamo noi e quest'anno secondo me andremo ancora di più ad accentuare il valore del loro lavoro, perché con la sola produzione, con il materiale prodotto esclusivamente da loro, nella loro fabbrica, vedremo sicuramente degli spettacoli, uno spettacolo grandioso, serale, abituati a colpi di scena, perché Vincenzo ogni anno si inventa di tutto e questo è quello che vogliamo, creatività, l'arte pirotecnica, i nostri spettacoli in questi anni si sono appiattiti, sono più o meno sempre gli stessi, invece noi vogliamo creatività, vogliamo cose nuove e loro sicuramente sono, e lo stiamo vedendo su tantissime piazze d'Italia, un'azienda che sicuramente porta novità coniugate alla tradizione. Quindi, senatore Fireworks, il sabato a Trani, per un grandioso spettacolo serale. Vincenzo vuol dire qualcosa? Sempre grazie. Sempre grazie. Un grande applauso. Facciamo parlare di fuochi. Facciamo parlare di fuochi, anche perché tra poco loro dovranno, se non sono impegnati quest'oggi qui alla Delfia. Bene, nel sabato anche abbiamo un'altra novità, abituati a conoscere un po' come l'orologio della pirotecnica, la precisione, nei suoi spettacoli, il materiale è sempre eccellentissimo, perfetto, ha una tempistica incredibile, e niente, voglio dirvi che, insomma, è un grandissimo onore per me, dopo quattro anni, riusciamo a sposarci con Giovanni Pannella, quindi Giovanni Pannella, che sarà presente a Trani, per la quinta edizione del festival, come ovviamente noto, come uno dei più grandi produttori di materiale pirotecnico italiano, di più grandi spettacoli pirotecnici italiani, impostati secondo la tradizione Pannella, e vedremo la mano Pannella in tutti gli artifici che realizzeremo, e nello spettacolo che loro penseranno per Trani, che hanno pensato per Trani. Giovanni, che ci vuoi dire qualche cosa? Ti ringrazio per avermi chiamato, e poi è il regno che metti nell'organizzare questa manifestazione. Un applauso, un applauso Giovanni, quindi abbiamo a questo punto la cinquina della gara, che è composta da Pannella Giovanni, la ditta Pannella, Senatore Fireworks, Maurizio Giuseppe Larosa, Ruocco Carmine, e Luigi Di Matteo Fireworks, per il giovedì. Questa è la cinquina del festival dell'arte pirotecnica in gara 2020. Adesso passiamo alla presentazione dei due special show. Il final show è lo special show. Il final show, ovviamente è assegnato alla ditta che l'anno scorso ha fatto un grandissimo spettacolo a Trani e che quest'anno si sta impegnando tantissimo nel discorso produzione. Sono dei ragazzi che l'anno scorso hanno dato grande successo a Trani, hanno dato dimostrazione di poter allestire grandiosi spettacoli e quest'anno si impegneranno appunto con loro produzione allestire. Uno spettacolo veramente innovativo. Parlo della Pepe Fireworks, spettacoli prodotti di TV. Vincitori dell'edizione 2019 del festival e che siamo onoratissimi di ospitare nuovamente a Trani per un grandioso spettacolo. Sarà veramente un final show con tutto quello che ci si può aspettare da un final show. Grandioso finale. È giusto Vangelo? Che ci vogliamo dire? Anche loro oggi sono impegnati qui per preparare lo spettacolo pirotecico di Uno che vedremo tra poco e dopodiché per Trani avranno tutto il tempo per preparare veramente uno spettacolo che ci lascerà a bocca aperta. Sarà una chiusura del festival non voglio dire il più bello ma sicuramente quello che darà maggior novità. Segnerà una marcatura netta tra quello che è stato fino ad oggi l'arte pirotecica e quello che sarà l'arte pirotecica. Quindi un caloroso applauso Bene, adesso non resta che lo special show che l'anno scorso abbiamo denominato Sogno a colori e che anche quest'anno si chiamerà Sogno a colori. Ho visto un po' in giro un po' di nomi Dream of Colors ho visto un po' di tutto quest'anno però sono certo che l'edizione 2020 riserverà al mondo dell'arte pirotecnica uno spettacolo di uno con un ritorno davvero prestigioso per uno spettacolo di urno realizzato da realizzato da realizzato da a Puglia a Puglia dei fratelli del Vicario Giacomo del Vicario che invito qua a venire che dal 2016 se non vedo male dal 2016 se non erro che dal 2016 non vediamo impegnati in uno spettacolo aereo diurno quindi sicuramente siamo stati abituati anche in questa bellissima piazza di Adelfia a vedere grandiosi spettacoli realizzati dalla Puglia che in questi anni voglio dire ha sempre dato grandissime soddisfazioni e garanzie di spettacoli incredibili a qualsiasi tipo di livello quest'anno sogneremo a colori da lui cario speriamo sicuramente faranno una grandiosa un grandioso spettacolo per il tecnico diurno e farà sì che tantissimi appassionati della tecnica potranno ammirare i loro artifici in una sparata diurna assieme a quello che sarà uno spettacolo coreografico che non dimenticheremo mai più questo ve lo garantisco sarà un quadro un continuo quadro dipinto tra tecnica e colori soddificare vuoi dice qualcosa? no perché dice quindi grazie e quindi il settimo partecipante al festival dell'arte pirotecnica 2020 è la Puglia e la Puglia e la Puglia del Vicario vi ringrazio bene adesso passiamo alla chicca conclusiva essendo questo il festival dell'arte pirotecnica dedicato ai soli produttori tutti tutto il materiale realizzato dai produttori per il festival dell'arte pirotecnica sarà riconoscibile ed è un unicum per quanto riguarda gli allestimenti di spettacoli pirotecici ovvero il festival dell'arte pirotecnica produrrà una targhetta dove ci sarà scritto made for festival dell'arte pirotecnica Trani e